Ehi re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano. Ehi re, luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi. Carissimi amici, buona domenica a tutti e buongiorno. Carissimi amici, benvenuti al nostro programma Parole di Vita. Benvenuti da Don Gaudioso Mercuri. Oggi è la prima domenica di Quaresima. E come ogni anno la Quaresima si apre con le tentazioni che il male, il maligno, Satana, il divisore, rivolge a Gesù. E anche Gesù vive le vicende degli uomini e le vive come ogni uomo del nostro tempo, seppure duemila anni fa ha camminato in mezzo a noi. Vorrei comunicare a voi quanto il Vangelo, la pericope evangelica di questa domenica, ci insegna quanto noi nella Quaresima dobbiamo essere da esempio agli altri, noi che siamo cristiani. E per insegnarvi questo non posso che non andare alla scuola di Gesù. Gesù passa in mezzo agli uomini e mentre cammina con gli uomini vive le vicende stesse degli uomini. E questo è un aspetto che mi affascina tantissimo di Gesù. Egli non sta seduto nell'alto dei cieli disponendo per gli uomini quelli che sono le nozioni, o gli insegnamenti, o i comandamenti ai quali gli uomini devono obbedire. Egli stesso vive prima le vicende stesse degli uomini. Vive la sofferenza, vive la passione, vive anche un martirio personale, non solo il martirio del corpo, ma il martirio della solitudine. E se vogliamo la Quaresima ci prepara proprio a questo. a vivere pienamente nella nostra vita il martirio della solitudine, il martirio della pazienza. Diceva Paolo VI che ogni cristiano è chiamato a vivere questo martirio personale, lento, che talvolta può logorare il cuore a quegli uomini che hanno perduto la fede, che hanno perduto l'abusso, l'orientamento nella propria vita. Questa domenica, attraverso le tentazioni che il diavolo rivolge a Gesù, ci insegna ad essere più forti. Dobbiamo fortificarci nel cammino della fede. Dobbiamo rendere forti le nostre gambe per camminare, ecco il verbo preeminente in questa domenica, camminare verso il Signore Gesù, camminare dietro a Gesù, che, lo ripeto ancora, anche egli ha sofferto. Le tentazioni si dividono in tre parti. La prima parla della tentazione dell'umanità, quasi, dell'uomo. Il diavolo chiede a Gesù di far diventare i sassi pane. E questo è una sconfitta totale al materialismo. A tutti quegli uomini e a quelle donne che credono che il danaro renda felici, che il danaro faccia acquistare nella propria vita una sicurezza personale, che li elevi rispetto a tutti gli altri uomini. Gesù insegna che non funziona così. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vengono innalzate, in questo senso, le relazioni umane. E l'insegnamento più grande che Gesù dà è l'insegnamento della carità. Siate caritatevoli tra voi. Sappiate tendere la mano gli uni verso gli altri. Sappiate essere davvero, fratelli e sorelle, nella verità dei fatti, non solamente con le parole. Il pane serve a sfamare l'uomo, ma l'uomo non vive di solo pane. L'uomo vive principalmente, credo sia la seconda parola importante in questa domenica, l'uomo vive di perdono. Chi sa perdonare è davvero nel gregge del cristianesimo. Chi sa perdonare è davvero nel gregge dei figli di Dio. Penso di poter parafrasare in maniera quasi eminente le parole del grande cardinale Angelo Comastri, che insegna agli uomini, ai cristiani, che l'umiltà deve essere il vessillo che noi alziamo alto nella vita del cristianesimo. Chi è umile sa rassomigliare a Dio. Diceva Tonino Bello, il grande Don Tonino Bello, commentando questa parola del Vangelo, che per vivere davvero la quaresima bisogna partire dalla testa per arrivare ai piedi, per arrivare a lavare i piedi. Ecco la sconfitta della prima tentazione. Chi sconfigge il materialismo sa che nella propria vita in tessuta di relazioni deve chinarsi sugli altri per lavare i piedi. Deve sapersi abbassare, deve sapersi rendere fratello, amico, compagno dell'altro, soprattutto quando l'altro non è fratello, non è amico, non è compagno. Solo in questo senso si vivrà la quaresima come Gesù ha insegnato ad ognuno di noi. E concludo con una frase che sempre mi affascina, che sempre mi ha veramente invitato alla speranza. La dico spesso ai miei parrocchiani, ma anche ai giovani che incontro. Un grande vescovo, un grande oratore, sul finire del 1600, Jacques Benin Bousseau, disse, sembra quasi che Dio si sia nascosto. Sembra quasi che Dio non voglia più far parte della vita degli uomini. Era il 1600, sembra la fotocopia dei giorni d'oggi. È vero che Dio è sparito, è vero che Dio si è nascosto. Sono frasi che sconvolgono, dette da un vescovo in Francia. Dio si è nascosto perché nel mondo è sparita l'umiltà. Dio si è nascosto perché nel mondo vivono e hanno la meglio gli orgogliosi. Ed egli si vergogna di fare parte di un mondo costellato da persone orgogliose, da persone che non sanno chinarsi sull'altro, da persone che non riescono ad abbracciare la vera fede, quella che solo Dio insegna e può trasmettere ad ognuno di noi. Sia questo il sentimento. Nella prima domenica di Quaresima dobbiamo trovare il coraggio di saperci abbassare chi si abbassa incontra Dio, chi si abbassa apporge Dio all'altro. Sapendoci abbassare, noi saremo dei veri fratelli, noi saremo dei Cirenei, lo vedremo anche nel cammino verso la croce, nel cammino verso il Calvario. Il Cireneo aiuta Gesù. Ognuno di noi ha bisogno di un Cireneo. Sia questo il sentimento che animi il nostro cuore e la nostra preghiera nella prima domenica di Quaresima. Auguro a tutti voi una giornata santa e un inizio di Quaresima che sia benedetto, sostenuto dal Signore. Camminiamo insieme dietro a Lui. Grazie.